Sale ora al podio il professor Marco Taich del Politecnico di Milano. Io volevo ringraziarvi dell'invito, soprattutto fare i complimenti per il titolo che avete scelto per questa assemblea, perché credo che sia assolutamente corretto spostare il focus, spostare quello che noi oggi pensiamo sia la quarta rivoluzione industriale o quello che stiamo vivendo, 4.0 come immaginiamo chiamarlo. Io sono da sempre un assertore del fatto che la tecnologia debba essere al servizio dell'uomo, debba essere al servizio dell'impresa, debba essere al servizio del business, per fare questo dobbiamo essere capaci di capire la tecnologia, dobbiamo essere capaci di gestire quella tecnologia, quindi dobbiamo essere capaci di analizzare e soprattutto di prevedere quello che sta succedendo. Quindi il fatto di parlare di rivoluzione culturale credo che sia assolutamente corretto. Lasciatemi dire che io preferisco poi parlare di rivoluzione delle rivoluzioni, è quello che ho cominciato a dire quando insieme al Ministro Calenda, insieme al loro primo Ministro Renzi abbiamo presentato il piano nazionale a settembre dello scorso anno. Quella che stiamo vivendo è un momento incredibile, non è solo una rivoluzione come la prima, la seconda, la terza, questi erano facili, in qualche modo erano semplici, la prima bisognava lavorare sull'acqua, sul vapore, la seconda sull'energia elettrica, la terza abbiamo cominciato a mettere un po' di automazione collegando un PLC a una macchina utensile, sapevamo dove dovevamo lavorare. La quarta è molto più complessa per una serie di ragioni, perché è fatta da una serie di tecnologie difficili da capire. La prima volta che mi hanno parlato della cloud, e credo che posso condividere questa cosa con voi, non ho capito bene che cosa volesse dire, mi hanno detto guarda che i tuoi messaggi di posta elettronica non sono più sul tuo PC, non sono più nella memoria del tuo telefono, sono da qualche parte, quindi messaggi, lasciatemi dire cose che sono difficili da capire. Quando abbiamo cominciato a parlare dell'internet delle cose, era difficile capire che cosa volesse dire questa cosa, voleva dire che gli oggetti cominciavano a parlare tra di loro, gli oggetti non erano più solo degli oggetti fisici, cominciavano a diventare degli oggetti virtuali, perché loro avevano una memoria, avevano una capacità di pensare, di ragionare e di interagire, ma questa cosa non sta nell'oggetto stesso, sta in una cloud e sta da qualche altra parte, quindi ecco che comincia a nascere un mondo che è fatto di cose che tocchiamo, di oggetti che interagiscono, di macchine che parlano tra di loro, ma di macchine che hanno una loro rappresentazione virtuale da qualche altra parte del mondo. Se avete visto questo film, capite a che cosa mi sto riferendo. Quando parliamo di Avatar, l'Avatar non è il titolo del film, il titolo del film è l'ampresa dal fatto che l'Avatar è la rappresentazione virtuale del Dio, nella cultura e nella religione indiana. Allora noi dobbiamo immaginare che questo mondo ci porterà ad avere una realtà fisica fatta di oggetti, di cose che noi tocchiamo, ma una realtà virtuale e digitale, un mondo parallelo che sarà sempre collegato e sempre connesso con il mondo fisico. Questo è il 4.0, questo è quello che noi chiamiamo i sistemi cyberfisici, i sistemi fisici, quindi della realtà, e i sistemi cibernetici che sono sempre in contatto con questi sistemi. E tutto questo passa attraverso un'altra tecnologia, quella di big data. Il fatto che noi oggi abbiamo la sensoristica, che non costa sostanzialmente nulla, in un'automobile ci sono oggi più di mille sensori, una casa ha un numero di sensori sostanzialmente elevatissimo, e questi sensori raccolgono dati. E il problema non è dove mettiamo i dati, che era il problema che avevamo tecnologico qualche anno fa, il problema sarà andare a tirare fuori dai dati, e attenzione a quello che vi dico perché poi lo riprendo fra un po', andare a trasformare questi dati in informazioni. La capacità di creare, ripeto, informazioni da questi dati attraverso degli algoritmi di analisi. Questo richiede delle nuove competenze, delle nuove cose. Quindi tutto questo scenario ci porta a quello che è oggi il 4.0, che è una rivoluzione diversa dalle altre, è molto più veloce delle altre, e questo l'ha ripreso anche il Presidente di Confindustria Romagna prima. Le altre, lasciatemi dire, erano sufficientemente lente da far sì che le persone che lavoravano in qualche modo andavano in pensione in maniera naturale, poi arrivavano i giovani con le nuove competenze e venivano inseriti in azienda. Questo non sarà più così, questo lo giochiamo nei prossimi 5-10 anni, e qui e voi avete un ruolo importante e una responsabilità da questo punto di vista. È molto più complicata delle altre, l'ho detto prima, da un punto di vista tecnologico. È pervasiva. Attenzione, vi farò qualche riflessione. Io non sono più d'accordo a parlare di Industria 4.0, perché se parlo di Industria 4.0 penso a quello che si trova nella fabbrica, nell'industria. Invece il 4.0 è dappertutto. Il 4.0 è nella nostra vita, nelle nostre città. Avete parlato di Smart City prima, è dappertutto. Dobbiamo cominciare a parlare di imprese 4.0, di supply chain 4.0, dobbiamo parlare di modalità di business 4.0, dobbiamo parlare di competenze che sono 4.0. E sono queste le provocazioni che vorrei provarvi a dare. Quindi la riflessione che voglio fare con voi è qual è la via italiana al 4.0? Che cosa dobbiamo fare noi? Allora, la prima è questa. Industria 4.0 lo vedete in alto in quella slide, è una slide di Roland Berger, quella è la visione dei tedeschi sul 4.0. La ottimizzazione della fabbrica. Va bene, questo lo dobbiamo sicuramente fare, ci mancherebbe altro, altrimenti la produttività non la possiamo fare, non ce la possiamo giocare. Dobbiamo lavorare sicuramente sull'Industria 4.0 e quindi sulle fabbriche 4.0. Il piano nazionale del governo lavora tantissimo su questo fatto. Ma la mia proposta è che noi in Italia siamo anche dei produttori di prodotti, di smart product, dobbiamo pensare a dei prodotti 4.0 e poi noi abbiamo una filiera, un insieme di piccole e medie imprese sicuramente molto estesa, che devono essere integrate tra di loro e quindi non più Industria 4.0 ma Supply Chain 4.0. Questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio, vi ho parlato di Internet delle cose, a me non sta più bene questa cosa. Non mi sta più bene perché un'impresa non è fatta di cose, di fabbrica, di robot, di macchine, un'impresa è fatta di persone, quindi dobbiamo cominciare a connettere le persone tra di loro e connettere le persone con le macchine, connettere le macchine con le persone, perché quelle persone che avete voi, i vostri collaboratori, sono quelli che poi vi creano valore. Ma un'azienda è fatta di servizi, un'azienda è fatta di processi di business e quindi dobbiamo collegare dei servizi tra di loro, far sì che i servizi, in qualche modo, i processi di business interagiscano con le persone, interagiscano con le cose. E quindi Internet delle cose non mi sta più bene. Dobbiamo pensare a impresa 4.0, dobbiamo pensare di connettere tutte le risorse e quindi anche le persone che voi avete nelle vostre organizzazioni, nelle vostre imprese. Terzo messaggio, il ruolo del dato e dell'informazione. Ho detto che la sensoristica ormai diffusa non costa più niente, questo genera una quantità infinita di dati. Bene, questo vuol dire che le aziende devono fare un salto da un punto di vista logico, smettere di pensare che l'output si faccia avendo materie prime e lavoro capitale. Dovete immaginare che esiste oggi un nuovo fattore produttivo che sono i dati. E non sto parlando di aziende che fanno dati, Google, Facebook, sto parlando di aziende manifatturiere che producono pezzi fisici e che devono immaginare che il dato diventa la materia prima del futuro. Io lo so che questo è difficile da capire, o in qualche modo da apprezzare, perché poi a stato patrimoniale i dati non si vedono. Questo è quello che mi dice, ho parlato con un commercialista un giorno, l'ho fatto apposta e gli ho detto scusami ma la produttività dovrà misurare? La produttività, tu prendi l'output, dividi per i fattori produttivi, hai la produttività del lavoro, la produttività del capitale, la produttività delle materie prime, la produttività dell'energia. Gli ho detto il dato, no ma il dato a stato patrimoniale non c'è, non lo vedi e quindi non conta, non vale. Allora capite che dobbiamo andare oltre, dobbiamo mettere, lasciatemi dire, i dati a stato patrimoniale, che non sto suggerendo di andare a tassare i dati, ci mancherebbe altro, che io dico una cosa di questo tipo, però il dato che torna e che diventa importante. Quarto, e qui arrivo un pochino più al lavoro, noi siamo abituati a pensare all'automazione, alle rivoluzioni industriali come prendo una persona, metto un robot e in questo modo io aumento la mia produttività. Questa cosa era vera quando parlavamo di automazione industriale negli anni 70, negli anni 80. Oggi ci sono, dovete pensare, almeno altre due forme di automazione. La prima è l'automazione collaborativa e cioè il fatto che il robot è la macchina, e la persona lavorino insieme tra di loro per andare a compiere dei compiti che sono sicuramente più evoluti del fatto che un solo robot possa fare e di una sola persona possa fare. E l'altra, che è ancora più importante, credo che sarà veramente la chiave di svolta del futuro, è quella dell'automazione cognitiva. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso prendere un oggetto come questo, lo metto sul braccio di un operatore e gli do informazioni in tempo reale su quello che lui deve fare. L'abbiamo fatto con le linee di assemblaggio delle vetture. Un operatore, a fine linea, quando doveva andare a montare la portiera della vettura, riceveva informazioni sulle istruzioni e sul dettaglio di quello che lui doveva fare. Bene, quella persona non perdeva più tempo ad andare a cercare istruzioni, non perdeva più tempo ad andare a cercare gli utensili, non perdeva più tempo a capire che cosa dovesse fare. La produttività di quell'operatore è aumentata del 20%. L'azienda ha deciso di non prendere più il robot, di lasciare quella persona al suo posto e quindi ha risparmiato di soldi in impresa, abbiamo mantenuto un posto di lavoro. Dall'automazione industriale all'automazione cognitiva. Vedete ancora una volta il dato che mi torna. La persona che diventa aumentata nelle proprie funzionalità grazie al 4.0 e grazie al fatto che gli do dei dati. Però poi non dobbiamo dimenticarci, e non vorrei che adesso, siccome parliamo di 4.0, ci dimentichiamo della lin, dell'ottimizzazione dei processi, di tutto quel lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Assolutamente non dobbiamo farlo. Dobbiamo continuare a lavorare sull'ottimizzazione dei processi. Se io facessi, mettessi della tecnologia digitale su un processo non ottimizzato, farei un gravissimo danno, perché non farei altro che andare a digitalizzare lo spreco. E quindi a creare un sistema che in realtà non è più efficiente. Quindi ecco perché dico l'in 4.0. Continuare a lavorare sui processi, ovviamente sul miglioramento dei processi, insieme al discorso. Infine, le persone. Che è un po' il tema di oggi, è quello su cui stiamo facendo qualche riflessione insieme. Il digital divide. Lo sappiamo che cos'è. Non ho caso messo lì questa foto di questa bambina davanti a un computer e del nonno, immagino che sia il nonno, che cerca di capire che cosa deve fare copiando da quello che fa la bambina. Questo è il concetto del digital divide. Il fatto che i bambini, i ragazzini sono totalmente avvezzi all'uso delle tecnologie digitali e le persone, diciamo così, di una certa età fanno più fatica a capire che cosa stia succedendo. Questo è quello che succede nel mondo delle persone. quando arrivano queste innovazioni tecnologiche, queste innovazioni digitali. La stessa cosa, e questo è un rischio, e quindi bisogna esserne consapevoli per poter gestire questo rischio, è che la stessa cosa rischia di succedere con questa quarta rivoluzione industriale tra la grande impresa, che è la bambina, la grande impresa è quella che ha budget, la grande impresa è quella che ha know-how, la grande impresa è quella che sa che cosa vuol dire 4.0. alcune di queste grandi imprese l'hanno creato al 4.0. La piccola e media impresa, lo sapete meglio di me quanti ce ne siano in Italia, è quella che, in qualche modo, in questa rappresentazione, quel signore anziano rischia di non sapere cosa deve fare, rischia di non capire che cosa stia succedendo. Nel piano nazionale abbiamo fatto, oltre agli incentivi fiscali, c'è un pilastro, che è quello della creazione dell'awareness, della consapevolezza. Andare a informare le imprese e le famiglie, e poi torno su questo tema, per fargli capire che cosa stia succedendo. Il problema è consentire, far sì che le nostre piccole e medie imprese sappiano che cosa stia succedendo da un punto di vista di questa rivoluzione industriale. Il fatto, e qui ripeto, i miei complimenti, che si parlino di questi temi in un'assemblea è importante. E quindi ecco che allora nasce il problema degli skills, li chiamo 4.0. Che cosa dobbiamo andare a fare e su chi dobbiamo andare a lavorare per dare quelle competenze necessarie per far sì che il 4.0 non sia una minaccia, ma diventi evidentemente un'opportunità. E ripeto, alla luce del fatto che, come avevo detto, non abbiamo tempo, perché questa è molto più veloce delle altre e dobbiamo assolutamente intervenire in maniera tempestiva su questa cosa. Noi abbiamo fatto una serie di riflessioni sugli skills, sulle competenze, poi ho qualche slide, e adesso ve la faccio vedere per farvi vedere che cosa dovremmo andare a fare e come, che cosa vuol dire operatore 4.0, che cosa vuol dire manager 4.0. Ma per farvi capire meglio che cosa intendo dire quando vi dico che qui dobbiamo in qualche modo vincere un problema sul digital divide, lo faccio facendovi vedere due video e quindi un pochino, lasciatemi dire, alleggerendo, facendovi anche sorridere in maniera tale che però il concetto passi e vi rimanga impresso. Allora, se facciamo cortesemente partire questo video, qui vedete questo è il compleanno di quel signore e quella figlia gli ha regalato un bellissimo oggetto, ovvero una tavoletta, però quando lui riceve una tavoletta, lui la tavoletta ha sempre usato una tavoletta come un tagliere, perché alla fine una cosa sottile rettangolare è una cosa che lui ha usato per tagliare la verdura e quindi capite quanto questa figlia possa essere stupita del fatto che quel signore abbia messo 600 euro di iPad in lavastoviglie a lavare, per carità ci sta, era una persona pulita, però forse non ha capito quel signore che cosa aveva in mano e non si è neanche posto il problema di che cosa lui avesse in mano e questo è ancora più grave perché non si è posto neanche il problema. Allora vi faccio vedere adesso la stessa cosa, lo stesso oggetto in mano a una bambina di un anno. Quella bambina non parla, quindi quella bambina non ha avuto possibilità che nessuno le ha insegnato a usare un iPad, forse l'ha visto per emulazione e quando al momento le bambine gli mettete in mano una rivista di carta vedete che interagisce con quella rivista di carta esattamente come vuole interagire con un iPad. cioè cerca di cambiare la foto cerca di ridurre le dimensioni della fotografia dell'immagine vedete che fa così con la mano e si arrabbia perché quella non è una rivista di carta nella sua testa quello è un iPad che non sta funzionando e quindi è giusto che sia arrabbiata da questo punto di vista. Guardate adesso che cosa fa vuole spegnere l'iPad vedete che schiaccia al centro del lato più corto esattamente dove avete del bottoncino dell'iPad siccome non si spegne la foto dice ma forse è il mio dito che non sta funzionando e questo è bellissimo questa cosa e quindi nel momento in cui poi le riviene messo in mano un iPad torna a essere contenta perché dice oh finalmente ho in mano qualcosa che sta funzionando. Allora perché vi voglio vi ho fatto vedere questi di voi video che ovviamente sono lasciatemi dire un po' estremi e perché perché noi oggi ci troviamo di fronte a un problema di gap degli skill di un problema di competenze ed è un problema che assolutamente dobbiamo affrontare ma dovete affrontarlo voi è a voi la responsabilità di fare questo. Allora quel signore ha tutto il know-how della vostra impresa sa come si progettano i prodotti sa come si fanno i prodotti quella bambina arriverà forse dalla migliore università del mondo ma non ha il know-how della vostra impresa non ha il know-how di contesto ma quella bambina è abituata a interagire in quel modo a pensare in quel modo a interfacciarsi con il resto del sistema in quel modo e quindi si aspetterà di entrare in un'azienda che interagisca in quel modo allora provate a immaginare come faccio io a far parlare quelle due persone il primo che ha le competenze con quella bambina che invece dovrà essere con lei che deve andare ad acquisire quelle competenze non potete immaginare che lui arrivi con un bel foglio a zero dice questo è il disegno dei nostri prodotti perché quella bambina non avrà visto un foglio di carta e assolutamente non sa da che pesce pigliarne e quindi quello che vi sto dicendo è che dobbiamo prendere quel signore e portarlo a capire che cosa sia il 4.0 perché è l'unico modo di garantire la sopravvivenza delle nostre imprese è l'unico modo di garantire che le nostre imprese il know-how che noi abbiamo passi nelle generazioni future vi racconto una cosa e questo la cosa è ancora più forte perché il rischio è che quella bambina se voi non avrete fatto un'impresa 4.0 non avete fatto un'impresa che parla questo messaggio quella bambina nella vostra impresa non c'entrerà neanche perché si fermerà ancora prima perché dirà io in quell'azienda non ci vado a lavorare vi racconto questo aneddoto che mi è successo non più di un mese fa con un mio laureato bravissimo mi ha detto Marco guarda ho ricevuto questa offerta di lavoro da questa azienda che si trova a Roma lui era a Milano gli ho detto bellissimo fantastico leader mondiale vai a fare il colloquio di selezione e lui mi ha guardato e ma sono a Roma e allora e mi hanno chiesto di andare a Roma prendi il treno e vai ma scusami ma non possono farmi il colloquio via Skype almeno il primo e gli ho detto non lo so ma perché devo andare in un'azienda che non sa neanche usare Skype ok e ve la rinforzo ancora di più e gli ho detto ma gli hai mandato il curriculum no ce l'ha su LinkedIn il mio curriculum potevano prendersi LinkedIn e guardare il mio curriculum scusami ma su LinkedIn non hai i tuoi hobby le tue passioni no certo ma vanno su Facebook e se le vedono allora è chiaro che questo è un estrema no ma attenzione che cosa voglio dirvi è che se voi non siete capaci di cambiare i processi ed è una provocazione e lo so che state murmurando ma l'ho fatto apposta se non siete capaci di cambiare i processi attenzione che quei talenti non entreranno neanche nelle vostre aziende e voi ve li perderete e questo è il rischio e quindi e chiudo lo sapevo che giornalavo ma era il mio obiettivo lo so grazie e quindi prendete le persone che avete in azienda quelle che sanno fare le cose e trasformatele portatele dal 3.0 al 4.0 l'operatore 4.0 che ovviamente è uno slogan una provocazione è il colletto blu che sa fare andare le vostre macchine che però domani deve capire i dati vi ricordate i dati i sensori che vi ho raccontato prima dovete prenderlo e farlo diventare il suo colletto un po' meno blu un po' più bianco un azzurro perché dovete dargli alle competenze di processo dovete dargli anche le competenze su leggere i dati i trend interagire con il resto del sistema usando queste tecnologie 4.0 ma non solo l'operatore anche tutti quelli che si trovano la logistica vedete questo operatore che ha tutte queste device a bordo e perché deve aumentare la propria capacità e la propria funzionalità ma attenzione che il management non deve sentirsi in qualche modo non considerato o non oggetto di questa trasformazione quando dico il supply chain manager 4.0 deve essere un signore che deve essere in grado di leggere trend dati domanda le decisioni non potranno più essere quelle di pancia quella a cui siamo abituati dovranno essere decisioni basate sul dato e sulla informazione e quindi anche l'imprenditore o il CEO non è esente da questa cosa e deve capire questo fatto e deve pensare che deve cambiare il modo di ragionare e di prendere le decisioni e quindi questo era un pochino il mio messaggio e quindi vi lascio con un'ultima provocazione che è questa immagine di Matrix io spero che abbiate visto questo film quando a un certo punto Morpheus prende il protagonista e gli dice se vuoi prendere la pillola blu domani mattina ti sveglierai non saprai cosa è successo continuerai a lavorare e a operare come hai fatto in passato non saprai nulla e quindi rimarrai in qualche modo confinato lasciatemi dire nel tuo 3.0 o l'altra opportunità che io ti sto offrendo è quella di prendere la pillola rossa di capire il futuro di guardare quello che sta succedendo e quindi di essere in grado di vivere questo nuovo mondo io mi auguro che dopo questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme prenderete tutti la pillola rossa stasera grazie